Vi presentiamo Emanuele Filiberto di Savoia, un principe italiano che indossa le sue abilità multilingue come una corona. Fluente in italiano, inglese, francese e spagnolo, naviga senza sforzo diverse culture e lingue. Come figura reale, egli esemplifica come la versatilità linguistica può migliorare la propria carriera e collegare persone provenienti da ambienti diversi. Ammiriamo il suo fascino regale e la sua abilità linguistica che trascende i confini.